numero 4 l'altissima concentrazione di estratti di arnica montana rende questa crema gel ideale per massaggi dedicati alla ripresa da contusioni gonfiori e fastidi a muscoli e tendini adatta agli sportivi soprattutto per strappi muscolari arricchita con oli essenziali di menta ed eucalipto che rinfrescano a lungo la zona interessata può essere usata anche prima e dopo lo sport per massaggiare le articolazioni e i muscoli affaticati una formula naturale ricca di principi attivi adatta anche alla cute più sensibile dei bambini se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 3 l'arnica è un valido aiuto per il benessere fisico in particolar modo per gli arti che sono sottoposti molto spesso a traumi di vario tipo questa crema offre immediato sollievo al corpo allevia i fastidiosi dolori articolari il tubetto contiene 100 millilitri di prodotto ideale anche per le pelli più sensibili contiene chiodi di garofano e cannella ottimo articolo se ti interessa questo articolo trovi i link in descrizione numero 2 crema biologica lenitiva contro strappi muscolari contusioni dolori cervicali stati di tensione questo tubetto da 75 megalitri contiene principi attivi come arnica vitamina e artiglio del diavolo burro di karité burro di cacao applicare più volte al giorno massaggiando delicatamente le zone interessate una crema dermatologicamente testata il massaggio con questa crema da sollievo lenisce il dolore da contusioni e libera la zona interessata dalla tensione restituendo una sensazione di benessere e consentendo di tornare a compiere in libertà i gesti quotidiani puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 questa crema da 50 megalitri a base di arnica estratto di peperoncino e olio essenziale di rosmarino è indicata per fastidia tendini muscoli cervicale articolazioni e per massaggio di schiena collo e spalle offre un effetto termico riscaldante e rilassante applicare la crema all'arnica sulle zone interessate con un leggero massaggio per un immediato sollievo adatta agli sportivi soprattutto per strappi muscolari trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video riscaldante riscaldante Grazie a tutti.